Le acque nere, putride, io non oso nemmeno avvicinarmi, che la telecamera di Piero sta inquadrando in questo momento, sono quelle che tutti possono vedere ad Augusta sul cosiddetto lungomare Rossini, un lungomare che è stato realizzato come via di fuga, state attenti, qualcuno una volta mi ha domandato ma questo è davvero un lungomare? E beh così è stato denominato, risposi io, oggi la situazione è migliorata rispetto ad anni fa ma rimane semplicemente una via di fuga, non è abbellito da alcunché, anzi questo cosiddetto lungomare è addirittura deteriorato da questa presenza di acque fetide, nere, perché sono di sbocchi amare appunto degli scarichi fognari delle case che sono prospicenti a questo cosiddetto lungomare, questo da sempre potremmo dire tra virgolette, cioè da quando uno ha costruito queste case, perché prima qui non c'era niente, se noi parliamo di 50 anni fa, 50 anni fa nessuno ebbe il naso più grosso del mio, se mi consentire, nel senso più lungimirante e doveva capire allora che non si poteva buttare qui gli scarichi fognari delle proprie case, le abitazioni, chi avrà responsabilità della cosa pubblica naturalmente, perché questo è un golfo bellissimo, qui potrebbero farsi i bagni tutti anziché costringere la gente di andare al faro, che è un imbuto, e lì c'è un'altra questione che noi dovremmo sollevare, per esempio il percorso del faro tortuoso, che potrebbe essere invece allargato se il Comune espropriasse alcuni pezzetti di terreno e se il Comune chiedesse alla Marina militare di cedere quel terreno che prima era poligono di tiro e che ormai la Marina forse cederebbe volentieri, basterebbe un po' di buona volontà, come per esempio la Marina cederebbe volentieri la foresteria che era della Marina, vi ricordate quella che c'è vicino al Palazzo delle Poste? Eppure nessuno fa nulla, aspettiamo che cosa, un altro anno che i commissari vadano via e possiamo avere una nuova amministrazione eletta dal basso, chi lo sa vedremo, però forse gli stessi commissari potrebbero fare una richiesta per avere quella foresteria e usare quei locali per uffici o per altre esigenze. Intanto i commissari rispondono che stanno facendo un elenco, una mappatura degli immobili comunali, quello potrebbe essere un immobile comunale, come qui potrebbe finalmente ritornare a essere uno specchio d'acqua, non dico una spiaggia, qui abbiamo scogli, però alcuni tratti di spiaggia ci sono, anche se sono fortemente illuminati come vedete e non c'è forse nemmeno il riciclo dell'acqua, anche se c'è quel braccio di scogli messo in quel modo. Ora noi abbiamo avuto molte sollecitazioni da parte degli abitanti qui di fronte e delle persone che hanno a cuore l'abitanti di Augusta. Augusta potrebbe ritornare a essere una città felice se piano piano potessero risolversi questi problemi che sembrano di grande entità, sono annosi, ma vorrei ricordare che ogni famiglia di Augusta per anni e anni ha pagato la tassa sulla depurazione per un servizio che non c'è stato mai. Questi soldi chi li ha incamerati? La Saiotto che cosa ha fatto con i soldi che noi abbiamo dato per il depuratore che non c'è, una tassa che poi è stata eliminata perché appunto la Cassazione ha riconosciuto che non si può pagare una imposta per un servizio che non viene dato. Questi soldi che fila hanno fatto? Ci sarà qualche magistrato che potrà indagare? Ecco, la domanda o le domande meglio sono queste qui, vedremo se qualcuno ci risponderà.